Un saluto da Andrea Castriott e benvenuti alla prima puntata di Capitanate Sport Magazine, il primo magazine incentrato su tutto lo sport della nostra terra, ad eccezione del calcio, perché a Foggia e in provincia vogliamo sottolineare che non esista solo il pallone. Siamo qui su Mitico Channel e per questo ringraziamo il padrone di casa Biagio Borricelli che ci ha concesso questa bella opportunità. Siccome le nutrizie da trattare saranno veramente tante, partiamo con il mondo della pallavolo. Serie B nazionale maschile, Ludas Volley Cerignola perde in trasferta a Marigliano per 3-7-1. Peccato per i ragazzi di Andrea Pozzi che si impongono nelle prime set ma purtroppo devono subire la rimonta dei campani. Scendiamo di categoria, Serie C girone A, la DS Gruppo Lucera si conferma sempre più caporista battendo in casa in rimonta per 3-7-2 il Volley Club Grottaglie. Davvero grande soddisfazione per Mister Furno e Compani che si godono questo straordinario inizio di campionato. Passiamo al derbissimo tra Uni Polzai Lucera e Tecno Master Beats Cerignola dove a spuntarla sono i ragazzi di Mister Tauro per 3-7-0. Risultato tondo ma Barbaro e Compani ben doncare la pelle. In classifica i Cerignolani salgono al secondo posto in classifica a 13 punti ma bisogna sottolineare che abbiano una partita in meno. L'Uni Polzai Lucera è nelle retrovie della classifica ma l'organico è ben attrezzato e sicuramente siamo sicuri che si riprenderà presto. In campo femminile in Serie B1 brutte notizie per le compagini down e infatti la BCC SGR Manfredonia perde malamente in trasferta da Pia per 3-7-0. E' emblematico il terzo set terminato sul 25-11. Ora si fa davvero complicata la situazione per le Sipuntine. Invece le ragazze cerignolane di Lillo Libera Virtus perdono in casa per 3-7-2 in una partita rocambolesca un po' particolare per l'arbitraggio ma vabbè anche questo è sport. Appunto 3-7-2 contro la Colfmax Sikens in una partita attiratissima. Peccato le ragazze di Mister Albanese che comunque smuovono la classifica e raggiungono proprio le Sipuntine. Scendiamo di categoria B2. La matricola Pallavolo Cerignola perde in casa contro le Cuba Volley ma questa sconfitta non offusca affatto l'ottimo inizio di campionato delle Pantere Cerignorane che in classifica sono sempre nelle parti alte appunto al sesto posto con 14 punti. Passiamo in serie D. Girone A. Rapida carregata di risultati. La farmacia Fares Lucera e Corsara Bari imponendosi per 3-7-2. Le cugine lucerine della SVG Energia Lucera perdono in trasferta contro la capovista Just British Bitonto. Mentre il derby tra Foggia Volley e Olimpia Orta Nuova vale Foggiane allenate da Valeria Di Mauro. Passiamo Sport. Palacanestro. La copertina ovviamente è per l'Allianz Pazienza Sansevero che confezione all'undicesima perla appunto 11 vittorie su 11. In casa la cestistica Sansevero sbriga la pratica Risto Pro Fabriano per 84-66 e questo successo grazie ai risultati dagli altri campi ufficializza la partecipazione alla Coppa Italia di categoria. La Castellano Udas invece perde in casa per 71-69 contro la Malloni Basket Santerpidio. Peccato per i ragazzi di Coach Marinelli soprattutto per il terzo quarto dove subiscono un parziale di 22-10. In classifica sono sempre fermi a 6 punti. Ultima posizione condivisa con altre tre squadre. Scendiamo di categoria. Serie C Silver. Brute notizie per le squadre di Capitanata con la Sunshine Vieste che perde in trasferta a Francavilla Fontana per 93-84. Mentre la Silac Manfredonia perde contro il Cus Ionico per 69-62. In classifica la Sunshine rimane a 10 punti più o meno centro classifica mentre la Silac Manfredonia è sempre terz'ultima a soli 6 punti. I Sipontini avevano altre velleità di campionato ma si trovano in questa brutta classifica. In Serie D dobbiamo registrare purtroppo ancora due sconfitte per il Cus Foggia che perde in casa contro la Pafimarco Molfetta per 61-77. E la Diamond che perde in trasferta contro l'altra squadra Molfettese la Dai Optical Molfetta per 73-59. Non bella la classifica delle Foggiane con la Diamond a quota 8 punti mentre il Cus fermo a soli 2 punti. In promozione la Sveva Lucera è sempre più capolista a 12 punti frutto di 6 vittorie su 6. L'ultima a danno della New Basket Barletta maturata in trasferta per 57-46. La Virtus Foggia che segue a ruota con i suoi 10 punti ha vinto in casa contro la Nike Terlizzi per 62-50. Ottima la vittoria per i raffrassati San Giovanni Rotonto. I ragazzi di coach Armando Radeglia vincono in casa contro la corazzata Nuova Virtus Corato che è appunto la seconda forza del torneo. I San Giovannesi hanno scelto un avversario speciale per regalarsi la prima vittoria stagionale. Infine il Basket Lucera perde in casa contro la Barletta Basket per 72-63. In campo femminile perché vogliamo sottolineare l'ottima realtà sanseverese della magnifico Basket San Severo vogliamo ricordare l'incontro oggi, proprio oggi, contro la valorosa Basket Brindisi appuntamento al Pala Falcone Borsellino alle ore 19.30. Quindi tutti gli appassionati di Basket si dovranno recare al Pala Borsellino, Falcone Borsellino. Passiamo sport, rugby. Il rugby sta scuotendo sempre più interessi a Foggia con la neonata associazione Foggia Rugby che sta facendo incetta di vittorie. I senior nel campionato di Serie C demoliscono i draghi bat per 21-3 ed in classifica sono al secondo posto, seguono la scia appunto della capovista potenza. Mentre i campioncini dell'Under 18 continuano a dare grosse soddisfazioni vincendo per 10-8 contro i parietà del Bari. Campionato al momento impeccabile per i ragazzi, per i campioncini allenati da mister Cassinese. Ricordiamo a tutti che le partite casalinghe del Foggia Rugby si disputano al campo Donuva in Via Lucera mentre gli allenamenti vengono effettuati al campo della chiesa di San Ciro. Quindi chiunque voglia informazioni può recarsi in questi luoghi. Prima di concedarci vogliamo ricordare un importante appuntamento per le arti marziali giorno 9 dicembre ore 18 palestra Taralli. Appunto ci sarà il Kickboxing Fight Night Galà 3 organizzato dalla New Fight Gym e il team Scrocchia proprio per festeggiare i primi 40 anni di attività del maestro Italo Scrocchia uno tra i pionieri della kick in terra di Capitanata. Bene, siamo giunti ai saluti pertanto ricordiamo l'appuntamento per la prossima puntata sempre lunedì ore 15 rigorosamente su un mitico channel. Chiunque voglia inviarci notizie, commenti, immagini e quant'altro può farlo alla mail info-capitanatinsport.it Ricordiamo infine che tutte le puntate saranno visibili sui canali YouTube di Mitico Channel e Capitanati Sport. Un davvero un saluto, a presto e viva lo sport della nostra terra!